Partiamo per un'altra avventura di Ecco Futuro. Siamo come vedete in un posto stupendo, il lago di Chiusi, e accanto a una signora, una donna, un ex consigliere dei 5 Stelle del comune di Chiusi, Bonella Rinaldi. L'avventura, ahimè, non è con lei, ma è con un'idea innovativa, che invece insieme a lei vogliamo costruire. Siamo partiti da una richiesta che alcuni mesi fa venne proprio da un dialogo in un'iniziativa preelettorale che facevamo per l'elezione del sindaco attuale, che poi è stato fortunatamente eletto. Sì, praticamente noi chiediamo una rinascita del lago di Chiusi, una rinascita degli intorni del lago. Questo lago, come potete vedere, è veramente bello. È un chicchino in mezzo alle colline. Purtroppo però piano piano sta morendo. A noi questo non piace per niente. Non vogliamo che il nostro lago finisca in un acquitrino. E quindi chiediamo in tutti i modi che questo lago possa rivivere, come era un tempo, con la pesca, con le varie attività che c'erano nel lago. Fra l'altro questo lago era anche balneabile e quindi potevamo fare il bagno tranquillamente. Quando io ero ragazzina facevamo il bagno in questo lago. Quindi noi chiediamo a gran voce che finalmente, dopo tanti progetti che sono stati fatti a voce ma poi mai realizzati, finalmente possa realizzarsi questo sogno. che è quello di vedere proprio un lago pulito, un lago dove le persone possano venire tranquillamente, la rinascita proprio del nostro lago. Bene, organizzeremo innanzitutto un convegno, ma un convegno che viene da una riflessione che abbiamo già fatto due o tre volte e anche con un dialogo avviato con il sindaco di Chiusi, di cui vuoi ricordare il nome? Sì, Gianluca Sonnini, lui appunto si è espresso in maniera positiva verso la rinascita del lago e quindi speriamo che questo si possa portare avanti così come è promesso dall'amministrazione. Quando daremo la data che presumiamo in marzo, intorno alla fine di marzo, in questo luogo molto bello, organizzeremo un convegno che sostanzialmente punterà a dimostrare che cosa? Primo, è possibile pulire il lago con il sistema Pelican, chi segue Ecofuturo sa di che si tratta, la barca di Garbage Group che è nelle condizioni di ripulire tutti gli specchi d'acqua dai rifiuti galleggianti. Devo dire che è molto ben tenuto anche grazie al lavoro volontario dei canoisti, di questi che ci fanno sport e quindi non è certamente una situazione di degrado da questo punto di vista. Ma comunque questo è uno strumento per partire, il primo più semplice. Non è drammatica, diciamo. Non è una situazione drammatica, è una situazione con cui bisogna lavorare. Secondo intervento o anche contemporaneo è il lavoro sull'eutrifizzazione delle alghe e lì presenteremo un sistema legato a Plocker che lavora sulle melasse attive e che sta risanando tantissimi laghi in Toscana, quelli per irrigazione agricola, liberandoli dalle alghe. Avete dei video nostri su questo, abbiamo parlato con diversi agricoltori che hanno dimostrato che funziona benissimo. Funziona anche in situazioni estreme come gli allevamenti di maiali con la parte liquami particolarmente puzzolente. In questo caso però ricrea un meccanismo tale per cui le alghe scompaiono e questo è un altro dei gesti che vogliamo fare. L'altra operazione, quella più tosta, è l'operazione degli ecodragaggi, cioè qui bisogna ritrovare il fondo naturale. Ritrovando il fondo naturale questo lago ricomincia a depurare e ritrova ovviamente anche una profondità degna perché qui ormai si vede che nei vari pontili c'è roba interrata, le barche come si dice posteggiate ormai sulla sabbia e via discorrente come si può vedere in questa situazione. Quindi l'ecodragaggio oggi fincanti a ridecomare è la soluzione perché fino ad oggi non c'era questa grande innovazione che chiunque può vedere entrando nella nostra fiera virtuale Exco, scaricando l'app di Ecofuturo, quindi va già a vedersela da decomare e vede come si può fare. Cioè si può togliere tutti i fanghi che ci sono qui e ritrovando le sabbie. Le sabbie buone si riutilizzeranno per l'attività edile, per tutti gli usi, quindi smetteremo di fare le cave. Quelli che commerciano sabbie invece di bucare gli daremo le sabbie direttamente, non gli fanno schifo, non è che sono gente che vuole bucare per forza, c'è gente che commercia in sabbie, quindi non gli importa. I limi stessi potranno ridiventare un potente ammendante dei campi che si vede intorno. L'ultima questione, come fa con i limi del Nilo, voglio dire, con lo stesso criterio. Ovviamente qua intorno potremo ripiantare, e ci auguriamo che si capisca anche questo, presenteremo un ragionamento legato alla ripiantumazione della cannabis industriale, perché la cannabis industriale è riconosciuta da tutti al di fuori di ogni polemica di tipo politico, questa è, come si dice, ormai è a prova di bischero, sono tutti d'accordo. Quindi la cannabis industriale struttura bene i terreni, dà un ottimo rendimento, oggi finalmente c'è una filiera che è in condizioni di recepirlo, il governo ha stanzato fondi per questa filiera. Ovviamente questo progetto, come gli acodragaggi e i grandi lavori, nascono oggi perché c'è la possibilità, grazie al PNRR, di far rinascere questo lago, ma non solo questo, magari quello di Ponte Pulciano, Trasimeno, eccetera, in una grande rivoluzione. L'altra cosa che chiederemo all'agricoltura, da un lato di ripiantumare intorno al lago, alberi, alberi per la produzione del legno, che qui possono andare benissimo, ad esempio la Paolonia, faremo un esempio proprio di questo tipo di piantumazione, e chiederemo all'agricoltura di lavorare sempre più e sempre meglio con colture compatibili rispetto all'esistenza del lago e magari applicando ovviamente senza forzature anche i criteri dell'agricoltura di precisione che escludono l'arratro dal futuro, perché è evidente che con il cambio di stile agricolo abbiamo riempito questi laghi, perché è chiaro che quello che era il girapoggio era una cosa, quello che è il ritochino è un'altra, quando piove nel ritochino tutte le sabbie vengono al lago naturalmente, voglio dire, quindi in più se noi evitiamo l'aratura quando arriva una pioggia importante riusciamo a evitare anche che si porti via le sabbie, quindi chiudiamo il cerchio ricreando un ecosistema meraviglioso, pulito, che ritornerà ad essere disponibile per tutto, è un esempio di rinascita del nostro paese, nel cuore dove è nata la cultura italiana, da Chiusi, centro dell'Etruria, è chiaro che diventa per noi anche un elemento simbolico, parleremo ovviamente qui intorno anche di comunità energetiche, di altri elementi che completeranno questo tipo di strategia, quindi un convegno, una giornata molto significativa, io ho voluto descrivere tutta la cosa, l'organizzazione dovrebbe essere come d'accordo tra Comune di Chiusi e Ecco Futuro, ovviamente con la collaborazione proattiva di chi ha lanciato quest'idea. Certo, no, quest'idea viene da molto lontano, perché è dal molto che il nostro gruppo proprio è propenso a questo, e quindi a far rinascere il nostro lago, più che altro anche il nostro territorio, il nostro territorio che non si ferma al lago di Chiusi, ma appunto anche con il lago di Montepulciano e il lago Trasimeno. Io sono stata consigliera comunale per cinque anni e mezzo, naturalmente non è stato possibile portare avanti questo progetto, perché ero in opposizione e quindi, come si sa, difficilmente le opposizioni vengono prese, le idee delle opposizioni vengono prese e quindi, vabbè, è stato accantonato, ma dentro di noi rimane sempre, dentro me e dentro tutto il gruppo che faceva parte appunto del movimento. Ma voi oggi siete in maggioranza però? Noi siamo, sì, ora oggi siamo in maggioranza, perché pur non avendo nessuno come Cinque Stelle nel Consiglio Comunale, però siamo comunque nella coalizione, e quindi proprio per questo speriamo di portare avanti questo progetto. È come sta avvenendo ora con le comunità energetiche, è un bel momento, perché il dialogo tra tutte le forze politiche finalmente punta alla rinascita del nostro paese, la rinascita eco ed equa del nostro paese. Quindi quello che sta avvenendo per le comunità energetiche mi auguro che avvenga come unità di tutto un popolo intorno alla rinascita di questi tre laghi.